Alba, ti devo dire una cosa importante. Io ti terresti nel tribunale, lurido bugiato! Alba, ti... Mi spiegate che sta succedendo? Ma certo, la figlia segreta di Lucio Novole. Che simpatico felpone che hai. Ti vesti da McDonald? Oh, bella. Finisce noi due. Ma cioè che ansia, pensavo fossi mia madre. Cassandra ti presenta a Leopoldina, la mia amichetta del cuore. Hai visto più pisali tu che la zuppa del casale. Matta! Ti hai scritto figa sulla fronte. Il mio segnale è scateniamo l'inferno! Pensavo avessi più coraggio. Invece porti una maschera. E sai perché? Perché hai una paura fottuta di sapere quello che vuoi veramente. Sto tornando a casa strafatta. Mentre mia madre e mia sorella sono in un letto di ospedale e io... Dico basta! Che cazzo ti ha sentito? Niente! Cavolo, ma hai solo 16 anni? Io e te siamo un cugino di primo grado. Alba, lui sapevamo che c'erano dei problemi col bilancio. Vado sul sicuro. Certo che pure per il tuo cugino ogni bocca ha una trincea però, eh? Cassandra, è un nome insolito per una ragazza così carina. Lei che sei venuta fin qui a predire terribili sventure? Tanto non te la dà! Non t'ac بن台. Ch meistensi come pezcoi al filo. Lei che sei venuta fin diffi. Siушки eh. G Grazie a tutti.